Ciao Elia, ciao carissimo, come stai? Ciao, tu da Piemonte e io da Lucania, due terre che un secolo e mezzo fa, un'ulto secolo e mezzo fa, come tu sai, sorgimento, insomma, per precisione, e sì, un secolo e mezzo fa. Andiamo tutti a... Stato il secondo? Pronto Michele? Ci vediamo la mattina, otto e mezzo all'ora? Sì, ci vediamo la mattina, otto e mezza. Sì, sì, sì. Passi da te, passi da te. Ok? Ciao, 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 ciao. Scusate l'interruzione, vabbè, niente. Stavo dicendo, un secolo e mezzo fa, fu due regioni contro, insomma, sappiamo benissimo cosa fu quella bestiarità dell'Unità d'Italia che fu fatta. In ogni modo, non è di questo che parlare stasera, anche se potremmo accennare qualcosa, ma ti do la parola anche per parlare di quello che sono le tue dirette con, appunto, con Barruso. Sì, ma non Barruso, appunto, ti do la parola per presentare un po' queste puntate che appunto tu farei, non farai, insomma, con Barruso. Ecco, prego. Sì, dovevamo farne una già ieri, poi ci sono stati problemi tecnici incredibili. Dovevo farne anche oggi. Io sul mio canale non riuscivo, ho chiesto un supporto a te. L'abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Poi ci siamo riusciti, in realtà, erano stati danni. Prego, prego. Io vi aspettavo a questa diretta, anche perché l'avevo preannunciata, mi dispiace, ma non è volontario. No, 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 la faremo sicuramente, anzi, con grande piacere, a partire da domani, sperando che anche il dottor Barruso, da là giù dove si trova, possa, come dire, non più avere certi problemi di linea, perché purtroppo quando si parla, sai, dall'estero, poi dove non si trova, capita che la linea non è proprio adeguata. Quindi questo succede spesso, anzi, non è da meravigliarsi. C'è anche da noi in Italia. Allora, stiamo a fare queste dirette perché vorremmo rappresentare un po' una voce diversa nel panorama della Chiariamo l'Acconto d'Informazione. Prego. Noi abbiamo un certo orientamento, ormai chi ci conosce, sai che con io, Silvano ed altri abbiamo orientamenti diversi, e abbiamo una chiave di lettura di questa realtà un po' diversa. Sì. Allora, io faccio una domanda, così magari cominciamo a entrare un po', cominciamo a dare qualche assaggio. Sì. Nuovo ordine mondiale, tutti l'abbiamo sentito. Certo. Nuovo ordine mondiale. Allora, non è ordine mondiale, è nuovo ordine mondiale. Esatto. Questo è nuovo davanti. Che cosa sta a significare? Eh, questo è bello. Allora, forse non ci si sofferma abbastanza su questa parola che viene prima, nuovo. Nuovo. Se c'è un nuovo, si suppone... Questo aggettivo qualificativo... Questo aggettivo qualificativo... Ordine mondiale, di un altro tipo. Ok. Perfetto. Quindi nuovo, rispetto a che cosa? Vuol dire che c'era, o c'è ancora, o in parte, un vecchio ordine, io direi un originale ordine mondiale. Sì. Allora, il nuovo, in che cosa è diverso dal vecchio? E soprattutto, in che cosa consisteva il vecchio e in che cosa consiste il nuovo? Un po' economico. Allora, l'economia è uno strumento. È uno strumento che serve a raggiungere altre finalità. E quali sono queste finalità? Per esempio, tu prima parlavi del cosiddetto risorgimento, quindi l'invasione del sud d'Italia. Non fu solo l'invasione del sud d'Italia, perché poi, insomma, questa unità d'Italia si è fatta in maniera un po' truffaldina. Un po' con l'invasione. Sì, sì, criminale e truffaldina, sicuramente. E giungo anche criminale. Perfetto. Tutti questi episodi, questi eventi, fra virgolette, storici, non sono nient'altro che, appunto, una marcia di avvicinamento al nuovo ordine mondiale. Ma io rifaccio la domanda. Questo nuovo ordine mondiale, in che cosa differisce da un ordine mondiale che c'era prima? Non può essere solo l'economia. Ripeto, l'economia è uno strumento. È come se io andassi da un falignano. E ritengo che ciò che il falignano sta facendo è usare semplicemente il martello, il suo seghetto, i chiodi, eccetera. No, quelli sono strumenti. Sono strumenti che servono a realizzare qualcosa. Quindi l'economia viene utilizzata per realizzare qualcosa. Allora, se noi vogliamo capire realmente quello che accade, dobbiamo sapere in che cosa consisteva il vecchio ordine e come si viveva sotto il vecchio ordine e in che cosa consiste il nuovo ordine e come si sta già vivendo sotto il nuovo ordine. Io parlavo con una persona l'altro giorno, che forse lui in maniera anche forse leggermente, ma ripeto, esagerata, diceva, siamo per la prima volta in una non civiltà. In una non civiltà. Le civiltà si caratterizzano per tante cose. Molto importanti sono i costumi di una società. I costumi sono lo stile di vita, le convinzioni, i principi, eccetera, eccetera. A noi stanno cambiando i costumi. Stanno snaturando l'essere umano. Questa è la realtà. È triste, è dura e ormai si ha in mano praticamente tutto. Perché tu quando possiedi l'educazione, l'istruzione anzi, perché l'educazione non esiste più. L'educazione esiste più nemmeno nelle famiglie. L'educazione una volta c'era, perché padre e figli erano più o meno vicini tempo fa. Quindi l'educazione non è fatta di parole, è fatta di esempi. Esatto. È fatta di esempi. Oggi purtroppo i genitori non stanno nemmeno insieme. Quindi che esempi dà. E abbiamo affidato totalmente questa educazione, che non viene fatta più, la ragione che poi magari se ti interessa ti dico, e viene affidata interamente alle scuole, a internet, a televisioni, a film, a musica, quando sappiamo in realtà che siamo arrivati dove siamo arrivati anche grazie al 68, che fu una grande rivoluzione. Ripeto, il 68 non fu solamente contestazione, fu l'uso, la diffusione massiccia di droga, fu l'inizio di un certo tipo di musica, furono contestazioni femministe, eccetera, eccetera. Quindi fu una svolta epocale, ma ritorno dove ero prima. Quindi non c'è più questa, non c'è più proprio l'educazione. L'educazione che cos'è? L'educazione non l'istruzione, l'educazione è insegnare ad una persona il dominio delle proprie emozioni. Perché se le emozioni non vengono tenute sotto questo tipo di società, però, che cosa fa? Allora, se io dico una cosa, vengo minacciato, o non possiamo parlare, ma vengono diffusi tutti i peggiori vizi. Tutte le dittature si caratterizzano per questo. Tu non puoi dire niente. Le norme persecutorie sono molto incerte, abbastanza con le maglie larghe, da poterti perseguitare in tutti i modi, ma vengono diffusi tutti i vizi possibili. E quando tu hai corrotto con questi vizi, non hai più un popolo, e ne puoi fare quello che vuoi. Questo è un dato di fatto, non sono un dato chiaro. Quindi... Lei è chiarissimo, Caveria. Allora, la domanda è quale nuovo ordine mondiale e in che cosa differisce dal vecchio? Questa è la vera domanda. E noi, con Silvano, vogliamo parlare anche di questo. Quindi parleremo della natura dell'uomo, per esempio, molto importante, l'abbiamo un po' perse queste conoscenze. Abbiamo perse queste conoscenze sostituite da una scienza, che non è sempre scienza. Io quando sento dire che la fisica quantistica è una scienza, mi si rizzo nei capelli in testa. È filosofia spacciata per scienza. Perché non può essere scienza ciò che è metafisico, ciò che io non posso misurare, ciò che non posso quantificare. E' chiaro, scienza è solo ciò che è misurabile e quantificabile, cioè è solo la parte materiale. Questa è scienza. Così è nata la scienza, è quello che intendeva anche Galileo. Ok. Ci siamo. Quindi ci sono molte cose da dire. La natura umana. Abbiamo perso proprio questa capacità. Poi magari parleremo anche di giustizia. Che cos'è la giustizia? No, beh, la natura umana è... Noi ormai... Prego, prego. No, stavo dicendo, la natura umana è come tu ha subito una... No, assimiliamo... Assimiliamo legge con giustizia. Assimiliamo legge con giustizia. Sono due concetti diversi. La legge non è detto che faccia giustizia. Anzi. No, no, no. Quella è un certo... E' un modo di tenere la giustizia. Ci siamo? Ci siamo, sì. Quindi parleremo un po' di questa cosa. Abbiamo in testa di fare un po' di dire... Diciamo che le leggi... Le leggi, tu mi insegni che le leggi sono una condivisione comune di regole, ecco. Perché io non posso fare una legge per me e poi la devo accettare per tutti gli altri. Cioè vuol dire, deve essere una legge comune di regole. Cioè deve essere una... Le leggi comune che vanno condivise e che si decide che devono essere rispettate. Ecco, questo è il tuo punto di letteralità. Prego. Allora. Non è proprio così. Perché quando un so... No, nel senso che... Prego, per dopo ti spiego. Vai, vai. No, non intendeva... Non intendeva come volontà generale la somma delle leggi. Ma intendeva una volontà nuova che nasce da parte di chi fa la legge. È chiaro. Quindi non intendeva il buon ruso di cui qualcuno parla ancora bene, tipo Voltaire, eccetera, eccetera. Non intendeva questo. Per volontà generale, lui intendeva una volontà diversa rispetto alla volontà dei singoli. Sganciata, non vincolata. Quindi tu metti in mano a qualcuno il potere di fare le leggi, questo qualcuno deciderà. Per te, per te, con la presunzione di agire nell'interesse generale, ti farà le peggiori cose. E questo non è legale, ma infatti io dicevo un'altra cosa prima. Allora, ci sono altre cose, mi auguro che riusciremo a parlarne con Silvano. Come no? Certo. Noi viviamo in uno Stato che si fonda sulla tripartizione dei poteri. Ce lo insegnano, io ho fatto giurisprudenza, mi sono anche laureato, nell'esame di diritto costituzionale, ti dicono che così, ovviamente, un potere bilancia l'altro per evitare pericoli di dittature. In realtà non è così, perché questi tre poteri non sono in mano a, come dire, a parti diverse della società. Non sono rappresentate tutte le componenti della società, come era una volta, per esempio nel Medioevo con le corporazioni, ma sono in mano agli stessi poteri. Per cui faccio finta che sono tre, ma questi tre sono in combutta tra loro, io ho creato una prigione perfetta. Se poi aggiungo anche la stampa, i media, che pensano a dare certe informazioni e a ricoglionire le masse, noi non ne usciamo più. E infatti, per me, da questa situazione, se non cambiamo strada e sappiamo leggere veramente i disegni di questo nuovo ordine mondiale, ma dovremmo rompere tanti schemi mentali. Purtroppo ci hanno portato veramente a odiare i nostri amici. Noi questa frase di Malcolm X la interpretiamo in un certo modo. In realtà va molto estesa. Va molto estesa. Sarò più chiaro. Noi parliamo male, tu ti è diventato un gioco, anzi non sei in, non sei figo, se non parli male della Chiesa. Non sei figo, ormai è di moda. Ti dico, ma allora non capisci niente ancora a quei tempi là. No, andiamo ad analizzare. Io sono d'accordo che la Chiesa ha preso una certa strada dopo, e ripeto, dopo il Concilio Vaticano Secondo. Non a caso il 68 arrivò dopo il 65. Dopo il Concilio Vaticano Secondo, il Concilio che aprì le porte a quello che viene chiamato modernismo, cioè la Chiesa che si adatta al mondo, e non viceversa. Non so se chiede. Allora, quando dico nuovo ordine mondiale, che cosa si intende? istituire il vecchio ordine mondiale che era fatto sui principi cristiani, che hanno fatto grande l'Europa, con un nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale è l'uomo che decide il bene e il male. È l'uomo che decide se tu sei maschio o femmina, che puoi scegliere liberamente. I gender, ti ricordi questo concetto del gender? che sta andando molto... che passerà, perché sono convinto che passerà. Sì, sì, passerà, sì. Ok, è tutto uno stravolgimento, un modo diverso, totalmente nuovo, di cose. L'uomo. Ecco. Bene. Allora, se si comincia a mettere insieme queste cose, si capisce che c'è un modo nuovo di concepire l'uomo. Di concepire l'uomo. È naturale l'uomo. È chiaro. Questo è il nuovo ordine mondiale. Che si serve dell'economia per avere i mezzi, per impoverire, per creare rincoglioniti, sostanzialmente. Ma non è la finalità. È semplicemente uno strumento. Allora, o noi cominciamo a vincere i pregiudizi, altrimenti rischiamo di fare il gioco del nuovo ordine mondiale. Mi dispiace. Probabilmente qua sotto ci saranno, come al solito, un casino di non mi piace. Ma a chi interessa la verità? Esiste la verità, ma qua bisogna essere veramente deficienti per dire che non esiste la verità. La verità esiste, ci vivere dall'uomo, ma come fa? Non esiste la verità. Se non esiste la verità, lo dicevo anche in un'altra occasione, non esiste nemmeno la menzogna. E allora io come faccio a regolarmi nella vita? Se non esiste né verità né menzogna e tutto si è equivale. E allora lui dice, che cosa ci stiamo lamentando? Se verità e menzogna sono la stessa cosa. Capisci? Quindi siamo dentro siamo dentro una manipolazione talmente grande, talmente grande, talmente grossa, che è partita secoli fa, che è partita secoli fa, che anche per noi riesce difficile capire dov'è manipolazione e dov'è manipolazione non è. Bisogna avere veramente un pelo sullo stomaco incredibile, non fermarsi di fronte a conoscenze che vanno contro le mie opinioni, perché di questo si tratta, e cominciare ad avere la visione più ampia, tornare indietro nel tempo, andare a studiarsi magari un po' di filosofia, perché no? Quali conseguenze ha avuto, per esempio, il pensiero di Guglielmo Diocca? Oppure quale conseguenze ha avuto l'illuminismo? Quali conseguenze ha avuto il pensiero di Hegel? Quali conseguenze? Quello della scuola di Francoforte, per esempio. E allora cominceremo a capire qualcosa in più. Quando un popolo togli togli questi certi principi, tu ne puoi fare quello che vuoi, perché solo un popolo corrotto nei principi e nella morale è dominabile. Un popolo non corrotto nei principi e nella morale non è dominabile. Mi dispiace. No, ma è verissimo, chiaro l'io, perché la storia lo insegna. Ma in effetti, stavo dicendo prima, il 68, proprio rappresentato, diciamo, lo Spartiaco in cui sono subentrate delle mode, devo dire, contro natura, dove si è lasciato spazio alla perversione più totale fino ad arrivare ad oggi, al gender, addirittura a non distinguere fra maschio e femmina, anche nella moda, i massi della femmina, una scuola di questo genere. Cioè, addirittura, in alcune scuole, come a Trieste si parla, c'è una scuola che addirittura si parla ai bambini di queste cose, cioè dove si natura tutto. Questo è un fatto, per mio avviso, molto, molto pericoloso. Ti do di più, in Germania, e purtroppo, io mi auguro di no, ma in Germania, addirittura, dei genitori sono stati mandati in galera perché non volevano neanche il figlio frequentasse certe cose. Questo è in Germania, lo ha detto anche i giornali, pochi mesi fa, e questo è un segnale molto pericoloso, in cui se l'umanità non si ridesta un attimo e non capisce a cosa va incontro, qui veramente ci darà un qualcosa che è veramente indescrivibile. Tu parlo della Chiesa, in effetti ho letto proprio oggi la notizia che il Papa vorrebbe contrastare questa tendenza. Io mi auguro che lo faccia perché proprio della Chiesa si aspetta un segnale fortissimo quando la Chiesa purtroppo in passato ha appoggiato forze che poi hanno provocato questo. Cioè anche questo bisogna dire. L'ha fatto cosa come inizia, parliamo dei versi della Chiesa, io parlo dei versi della Chiesa, i vertici, parlo della Chiesa, perché la Chiesa caro D'Alia è putrefatta al vertice, non alla base, perché alla base tutti lo possono constatare, possono dire che nonostante c'è l'inquinamento che c'è ma ci sono dei sacerdoti, anche delle suore se vogliamo dei prati, eccetera, che veramente mantengono alto lo spirito cristiano per non parlare di missionari, di quello che fanno nel paese del terzo mondo, in completa solitudine quasi, tra di più addirittura entro Montanelli in tempi non sospetti aveva detto che aiuto il terzo mondo non bisogna darle ai governanti corrotti che poi dissipano tutte le risorse, ma bisogna darle ai missionari. E io che mi sono un po' informato, ho avuto anche amici missionari una Filippina morto per l'anno scorso, so cosa hanno fatto e devo dirti che Montanelli aveva ragione, però la Chiesa purtroppo, il verso della Chiesa sono i primi tra i primi ad essere accusati di convivenze con queste forze che oggi ci hanno portato a questo problema. Non facciamo una buona informazione, mi dispiace, io distingo la Chiesa post conciliare dopo il Concilio Vaticano secondo, dopo, e sto dicendo che ormai è infiltrata, è infiltrata, questo Papa non mi ha fatto di buono, perché ha fatto delle dichiarazioni che sono incredibili, quindi non mi aspetto niente di buono, non mi aspetto niente da tanti cardinali, da tanti vescovi e i predi purtroppo sono impreparati, sono impreparati a capire anche solo il messaggio cristiano, so quello che dico, ma io sto parlando di un'altra Chiesa, la Chiesa post conciliare, quindi quando parliamo di Chiesa, per cortesia, cerchiamo di fare questa distinzione e se vogliamo parlare di Chiesa, non parliamo sempre delle solite cose di massimo albano, facciamo discorsi seri, perché l'unica possibilità che noi abbiamo è quella di tornare all'originale ordine mondiale e non a questo nuovo ordine mondiale, diceva Don Bosco esistono due tipi di guerre, solo due tipi di guerre, una a favore della Chiesa e una contro, non esistono altre a questo mondo, è chiaro, per chi non legge la storia in modo storicista, ma qua il discorso è abbastanza lunghetto, quindi voglio dire, quando parliamo di Chiesa, io sono il primo a dire, dopo conciliare Vaticano II, lasciamo stare quello che è successo, il modellismo è entrato, si sta andando verso l'ecumenismo, è chiaro, verso l'ecumenismo basta che credi in Dio, non c'è nessuna difficoltà, che porta all'ateismo, alla nuova religione mondiale, è chiaro, quindi dobbiamo distinguere, non possiamo, non possiamo, è come se io dicessi a te, guarda, che fini, rappresentò la continuazione del fascismo, tu dici, ma stai scherzando, eppure lui sosteneva, quando poteva sostenerlo, questo, ma non devo, guardare l'etichetta esterna, devo guardare i contenuti, devo guardare i contenuti, purtroppo, non posso parlare di etichette, quindi, quanto sento parlare di chiese in maniera generale, generale, io ogni tanto mi incazzo, scusa il termine poco, immobile, ma ogni tanto mi incazzo, perché bisogna essere molto precisi su questo caso, bisogna fare l'istituto, l'ha detto, allora, il più ordine mondiale, l'originale mondiale, quindi, io sono il primo a mettere il dito nella piega quando parliamo dal 65 in poi, dal 65 in poi, è stato, si è andato in man mano peggiorante, ma io sto dicendo l'originale messaggio della chiesa, l'originale, e quando parlo l'originale parlo anche in ciò che è contenuto, anche a livello sociale, gli allarmi lanciati da Leone da Pio X, Pio XI, Pio IX, la chiesa era quella ed era già infiltrata, si fece di tutto per evitarlo, purtroppo non ci si è riuscito, per tantissime ragioni, e oggi la chiesa è spuntanata anche su cose del passato che sono state totalmente manipolate a livello di informazione, quando qualcuno mi parla dei catari, io dico, ma voi sapete quale dottrina professavano i catari? Quale dottrina professavano i catari? C'è gente che non lo sa, però è pronto a dire che furono sterminati, aspetta un attimo, quale dottrina professavano? Perfondire questo argomento, il primo a combattere i catari, il primo a combattere i catari non fu la chiesa, furono i governanti, perché rappresentavano un pericolo per una società civile, perché avevano delle dottrine che erano un pericolo per la società civile, era la gente comune che si ribellava ai catari, è chiaro, qualun giorno magari parleremo di queste inquisizioni, di che cosa fu realmente, la chiesa non mandò a rogo nessuno, la chiesa non mandò a rogo nessuno, ci pensava il potere temporale a farlo, perché non diciamo anche queste verità? Perché non diciamo anche queste verità? Perché noi le prendiamo da questo sistema che ce le insegna già a scuola, quando una cosa viene insegnata a scuola che è manipolata. Giordano Bruno, questo grande eroe, filosofo, lo si studia a scuola come se fosse un santo, un grande filosofo, ma non vi viene il dubbio che qualcuno che studiamo a scuola in quel modo là in realtà c'è qualcuno che vuole sponsorizzarlo tra virgolette, ma la realtà è completamente diversa. Non vi viene questo dubbio, non vi viene questo dubbio, anche l'inquisizione noi la studiamo a scuola, la lotta per l'investitura la studiamo a scuola in un certo modo, ma non vi viene il dubbio, non vi viene il dubbio che è manipolata questa cosa, non vi viene il dubbio? A me sì, a me sono venuti tanti dubbi, da circa tre anni da questa parte, quando pensavo di aver capito un po' tutto, non avevo capito un accidente, non avevo capito le cose più importanti, la moneta è importante, ma noi solo con la moneta, a parte che non so se ce la faremo mai, non riusciremo a risolvere niente, perché non cambieremo o non torneremo a certi principi che fanno stare l'uomo in società, se tu lo rendi un po' più ricco, non lo rendi migliore, gli fai comprare più roba e basta, ma non abbiamo solo bisogno di questo, abbiamo bisogno di recuperare l'uomo, se non recuperiamo l'uomo siamo finiti, finiti. Ma io sono d'accordo, io penso che sono d'accordo, su questo, quindi chi ci ascolta tantissima, hanno d'accordo su questo fatto che bisogna recuperare l'uomo, io sono d'accordissimo su questo, te lo dico, lo ripeto, su questo penso che non abbiamo nessun contrasto, che va ricoprato l'uomo o soprattutto l'uomo sociale, che tu poco fa l'ha appena detto, perché dice la moneta in effetti non solo il problema la moneta, è vero, perché non è solo quello che risolve il problema, ma sono altre componenti che insieme alla moneta risolvono, cioè posso ricoprare l'uomo a essere tale e non qualcosa di meccanico o di solo consumistico oppure di perverso come sta avvenendo oggi, io di questo senza dubbio e su questo punto bisogna lavorare, ma io credo che tu stesso hai fatto di dubbi, in effetti se uno si può del dubbi non capisce a me nulla, tu l'hai detto prima e io ho scondito questo fatto, cioè per quanto non sappia tante cose ma molte non le so, io anzi a volte più vado avanti e più vedo che tantissime cose sono false, ma non solo nel ramo storico normale ma anche nel ramo religioso, cioè di storia, religione e tante cose come anche il cristianesimo di cui sai che c'è ci sono tante polemiche ma comunque mi c'è riconosce che il cristianesimo adatto comunque all'umanità adatto a una certa parola vengono agevolati se io parlo di certe cose sono minacciato, come mai questi autori questi autori non gli succede niente? Noi abbiamo un brillino che ormai è diventato un vivo, c'è un libro che viene addirittura pubblicato da Mondadori, da Mondadori, c'è gente che ha scritto libri fantastici su determinate verità non trova un cane che gliele pubblica e allora come mai Biglino trova Mondadori che gli pubblica un libro? Ma non mi viene il dubbio? Ma guarda, io non mi viene il dubbio? No, 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 stavo dicendo è chiaro che c'è una lotta come dire per dare un colpo a una certa morale che rappresenta in questo caso parliamo della Chiesa Cattolica insomma del cristianesimo in quanto tale quindi il Biglino potrebbe far comodo potrebbe far comodo anche se da quel comodo non potrebbe perché Biglino allora scusa adesso non me ne frega niente perché Biglino che ha tutta questa purpura non ci dice che cosa c'è scritto in altre scritture di altre religioni perché non ce lo dice? se è quest'uomo mi vuole informare l'umanità lui è uno studioso anche di altre scritture in quelle scritture ci sono scritte le cose gravissime perché il signor Biglino non importa su quello? perché? per quale ragione? domanda che dobbiamo fare gli stupidi di fronte a questi personaggi di fronte a questi personaggi non possiamo fare i cretini poi Biglino dice ma io posso farlo anche posso fare dibattito con teologi che tipo di teologi? quelli del Vaticano II? o quali teologi? se vuole fare un confronto che lo faccia con un teologo serio è chiaro ma ripeto lui è un'unico di grande cultura che ha studiato a fianco a fianco con determinate persone perché di certe altre scritture del loro contenuto gravissimo non ne parla perché? dobbiamo chiedere un'unico che ha fatto bene a dire va per la maggiore che dimostra che dimostra c'è un altro scrittore romano mi pare che dimostra matematicamente la non esistenza di Dio matematicamente ma tu ti rendi conto matematicamente lui dimostra la non esistenza di Dio poi adesso è tutto un proliferare di persone che scoprono no ma guarda che Gesù era sulla figura del Gesù storico è tutto un proliferare ma come te lo spieghi come te lo spieghi e dicono e la Chiesa non dice niente per forza per forza la Chiesa è infiltrata per forza anzi chi ne vengono di questi di questi autori di questi ricercatori liberi pensatori perché ciò che serve a questo sistema ci stiamo scavando la forza con i nostri piedi il nuovo ordine mondiale c'è già nella mentalità noi viviamo in trisi di cultura massonica e ogni pensiero che abbiamo purtroppo è massonico perché arriviamo da secoli di questa cosa da secoli è chiaro da secoli questa è la realtà e dovremmo studiare un po' qui la filosofia e non sto scherzando ripeto per arrivare a capire questo non ci arrivi da solo perché è troppo grande la manipolazione è troppo troppo grande e ripeto non bisogna avere i parocchi una cosa che io pensavo di aver capito dico accidenti ma qua c'è qualcosa che non mi quadra e allora se se magari scusa mi sta chiamando adesso chiamo dopo quindi di cosa da dire come un luso noi abbiamo ne abbiamo tante ne abbiamo tante io mi sono un po' assentato dal web per questioni personali ma anche perché veramente certe volte rimani molto deluso da quanto si ragioni per partito preso e siamo accusati noi di ragionare per partito preso quando in realtà molte volte io non mi trovo confutate le argomentazioni mi trovo solo ho messo per esempio una conferenza che parla non a favore di Augas e Oddi Freddi apri di cielo apri di cielo sono due autori che non ti mostrano assolutamente niente fanno affermazioni fanno affermazioni fanno affermazioni apri di cielo commenti su commenti non mi piace un casino e questa è gente che ha la mentalità aperta la mentalità aperta è confutare qualcosa con argomentazioni non è dire cretini ancora credete a queste cose ancora credete alla chiesa questa non è un'argomentazione è indecillità è dura confutare con argomenti qualcuno senza l'uomo di comuni in ogni comuni che trovi in giro che ti hanno messo nella testa e nella bocca da anni e uno va in giro con questo l'uomo di comuni no, in effetti io quello che vuole fare è proprio usalo allo sfogo no, no, no ho fatto bene io ti dico una cosa io ho parlato con Biglino di questo problema ne ho parlato anche telefonicamente e lui mi ha detto semplicemente questo lui come dire a meno come ha detto lui io vi porto la sua parola non è che ce l'ha con la religione o con chi crede lui dice io ho fatto questo e ho tradotto questo dice io sono tradotto non è che ho come dire ho mistificato le cose ho tradotto e basta è venuto fuori questa cosa qua questo lo dice lui no, tu sai che tu sai che le cose non sono così dice lui perché non esistendo le vocali no, lui dice questo e le parole essendo messe tutte insieme non esistendo le vocali e le parole essendo messe tutte insieme dipende dove io taglio una parola e che vocali ci metto per tirar fuori una traduzione sì, sì no, io ci sto certo cioè no, ma io prima ho detto sinceramente queste cose io ho tradotto insieme un testo con tutte i consonanti tutte collegate e poi vediamo quante significate o quante parole o quante significate o quanti testi in effetti lui stesso ha anche detto che il suo dittore ha chiamato di teologi quelli di fama mondiale ha chiamato per comportarsi con lui ma finora non ha ricevuto diciamo così nessuno al momento ha aderito almeno fino a due mesi fa quando parlate con un biglino di questa cosa poi non so se nel frattempo qualcuno ha aderito e noi e noi siamo pronti a credere al primo che passa che è un biglino e non siamo pronti a credere a duemila anni di storia che dovremmo allora ma che cosa abbiamo più da dirci no 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 non è questo i duemila anni di storia ci sono devo prendere gli iscritti di biglino e vedere quanto sono funzionali al nuovo ordine mondiale sono funzionalissimi sono funzionalissimi io ho fatto tre interviste a biglino e glielo ho anche chiesto scusa ma questi certo mi ha detto che sono funzionali al nuovo ordine mondiale certo allora questo solo su poi sulle traduzioni possiamo parlare non è questo non è questo ma noi siamo più pronti a credere ad un biglino e non a duemila anni di storia da ristudiare da ristudiare veramente con la lente di ingrandimento da capire i vari passaggi le varie date quello che è accaduto e allora sì che riusciremo a capire riusciremo a capire che purtroppo stiamo facendo il gioco del nuovo ordine mondiale è un dato io ho ti dico una cosa caro saremmo anche evidente non dobbiamo confondere scusa non dobbiamo confondere l'anticlericalismo viscerale che qualcuno ha ma sono cavoli suoi col cristianesimo non si può confondere non posso confondere l'antipatia per un politico con l'idea di politica no no quello no non è quello che si fa l'anticlericalismo porta ad avvicinarti a certe fonti a certi libri scritti da certi autori perché tu vai alla ricerca di qualcosa da avere per attaccare ancora di più e andare ad altre fonti e questa è la dissonanza cognitiva io non voglio entrare in possesso di argomentazioni che potrebbero mettere in crisi le argomentazioni cioè le convinzioni che ci ho in testa ma purtroppo no 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 io è come un economista accademico che l'economia è tutta una costruzione artificiale quello ci ha studiato anni ci ha fatto la sua carriera ci mancia su quelle cose e come pensate di ottenere è come andare a dire a uno psicanalista freudiano che la psicanalisi è una costruzione del cavolo è una costruzione del cavolo non c'è niente di scientifico né di provato anzi c'è qualcosa di provato al contrario ma se questo scusa ci ha studiato anni ci lavora pure che farà che farà capito sarà d'accordo con me che la psicanalisi è qualcosa di distorto è qualcosa di distorto che ha avuto e sta avendo una funzione importante importantissima che prima aveva qualcos'altro che prima aveva qualcos'altro e costava molto meno prima c'era qualcos'altro a risolvere questi problemi e non costava niente oggi invece bisogna andare dallo psicologo no infatti ti capisco che vuoi dire no ma io dico proprio in questo caso per esempio io adesso quando i biglino io ti dico personalmente non è una persona che dice no io cioè a meno con me ha parlato in maniera molto diversa da quello che mi stai dicendo tu cioè nel senso che lui è disposto a qualsiasi cosa qualsiasi confronto tranquillamente me l'ha anche detto e quando gli ho chiesto domande sulla massoneria lui mi ha detto eh mi accusano di qui mi accusano di là ma io ho poco a che fare con la massoneria anche se tempo fa dice lui ho incontrato degli amici non so ma però cioè ma fate intendere che lui a meno mi ha fatto intendere lui poi non lo so se è vero o no questo poi dopo si vedrà in un confronto fatto bene con lui con chi dovere se farò con te o farò con chi vuoi tu guarda io con biglino ci ho perso già tempo già troppo tempo quando ho capito basta io l'ho conosciuto personalmente l'ho conosciuto personalmente hai fatto l'intervista che è stato un vero interesse la tua ok la tua intervista l'hanno visto migliaia di persone chiaro allora io alzo il sedere e vado a conoscere la gente mi dispiace non mi basta certo ma certo mi ha fatto dicendo ok devo dire l'intervista che tu hai fatto a biglino è stata tutta apprezzata come vedi anche lì se noi dobbiamo stare qua a parlare di un personaggio che scrive no no di lui che che contestabile parliamo anche di altri noi crediamo a duemila anni di storia noi siamo finiti e meritiamo di essere finiti meritiamo di perché non abbiamo capito non abbiamo capito il disegno globale che c'è in atto ma questo l'ho capito anche ascolta Elia questo disegno globale è la distruzione è la distruzione di un mondo ma certo è la distruzione di valori di imparali di modo di concepire l'uomo di modo di concepire lo stare insieme lo stare in società sta saltando questo siamo tutti soli una vicenda terribile è rimasto un amico uno è chiaro fosse stato 50 anni fa non sarebbe mai successo una roba del genere inconcepibile inconcepibile oggi siamo tutti soli io ti credo infatti ti voglio dire questo Elia questo è il nuovo mondo tu sai che da più parti da più parti c'è gente diciamo così di diversa strazione politica religiosa che si lamenta di questo nuovo mondo si lamenta e c'è gente sia laica sia non credente credente qui diciamo c'è una discussione su questo punto anche adesso anche insomma a certi livelli insomma qualcuno comincia a dire quello che va detto tu per esempio facci un esempio ti dico uno tu ti ricordi quello che è successo a Parigi quella sparatoria quell'atto criminoso che ho messo a Charlie Hebdo no? ecco lì c'era un ministro dell'economia francese un ex ministro dell'economia francese che ha messo in guardia contro certe cose a partire dall'euro ebbene sembra quasi quell'attentato l'hanno fatto per ammazzare a questo ministro o ex ministro francese dell'economia per esempio no? per dirti di quella che la tua denuncia ripeto la pensano anche quelli non credenti questo voglio far capire che poi certamente ognuno alla sua visione però diciamo ci sono quelli anche non credenti che comunque hanno una legione morale allora se noi non capiamo il disegno complessivo del singolo fatto non riusciamo a collocarlo nel posto in cui merita essere collocato c'è una visione come dire frammentata in realtà qua c'è chi ha capito la moneta ma non ha capito altro chi ha capito la medicina ma non ha capito altro c'è chi ha capito l'inquinamento da certe cose ma non ha capito altro cioè è difficilissimo trovare chi ha una visione d'insieme quando tu hai la visione d'insieme riesci a collocare ogni cosa al suo posto e a leggerla bene addirittura a prevedere che cosa accadrà perché conosci i piani è semplice io ti dico che l'obiettivo principale è snaturale totalmente l'essere umano il resto sono strumenti che vengono utilizzati come il paligname usa il martello il seghetto eccetera per fare le porte le finestre eccetera l'economia è strumento è uno strumento non è il fine ultimo e quindi sostituire un ordine che c'era già quale ordine c'era già cosa ha fatto grande l'Europa lo dice guarda Benedetto Croce che era un laico ha scritto qualcosa di importantissimo su che cosa ha rappresentato il cristianesimo ha scritto qualcosa di importantissimo sono parole sue non sono mie sono parole sue non c'è niente di mio se si prende un altro filosofo che si chiama Sini che non è cristiano e dice è indubbio che senza il cristianesimo non avremmo avuto questa questa civiltà europea ci dimentichiamo di dire che durante il periodo l'era cristiana quella che chiamano Medioevo fu l'era cristiana e allora che naccono le università gli ospedali opere pie l'arte cattedrali tutto tutto poi arrivo al rinascimento capito l'epoca buia che ci dicono scurantista fu tutt'altro ma ci vuole poco a capirlo ma questo io penso che in tanti l'hanno capito perché ci sono lo stesso c'è uno studio di uno di persone no ma io devo credere a un biglino sulla certa intercedurazione non devo credere a duemila anni di storia devo credere a un biglino che con i suoi con le sue tra virgolette traduzioni è funzionale perfettamente a questo nuovo ordine mondiale lui è altro io ovviamente ho capito ok ti ringrazio non niente comunque ascolta di questo tema dobbiamo dobbiamo parlarne di lei ancora ancora anzi mi auguro che qualcuno vuole intervenire in questa discussione perché quel che tu hai lanciato è un messaggio a mio avviso importante che va discusso tu hai parlato duemila anni di storia e certamente io sto dicendo che bisogna non studiarlo o mistificarlo io direi che bisogna studiarlo o meglio andare alle ponti e veramente andarci dentro con una certa serenità e anche diciamo con la costanza di capire il valore di questa storia specialmente della storia del cristianismo e questo senza dubbio ti dico l'ultima cosa ti dico l'ultima cosa l'essenza di questo mondo che stanno costruendo e che sarà molto peggiore di qualsiasi dittatura che c'è mai stata sulla faccia della terra sono d'accordo anche su questo sarà una dittatura del pensiero tu non potrai si sta già manifestare ok l'essenza di questo mondo che stanno costruendo è impedire la vera spiritualità non quella robetta robaccia che danno in pasto questa è l'essenza è vero ma sono d'accordissimo guarda in questo punto sono convinto che migliaia e milioni di persone d'accordo con qualcosa dicendo di quelli che almeno usano l'intelligenza che sono intellettualmente onesti su questo senza dubbio c'è di tutto il pensiero ma guarda ti dico questo io dal tempo che sto dicendo adesso facciamo un paragone così ma diciamo non proprio preciso ma da un'idea l'Europa occidentale no la UE l'Unione Europea sta diventando qualcosa di peggiore della Russia stalinista mentre in Russia guarda cazzo mentre in Russia lasciamo stare adesso Putin che in Russia c'è tanta gente che invece riscopre certe cose e questo è il paradosso io parlo del popolo russo e sto parlando dei politici io ho degli amici questo è sul discorso Putin in Russia eccetera sono molto meno io parlo del popolo russo perché i russi è vero che una stagante della maggioranza sta con Putin ma c'è anche chi è contro Putin però ci sono poi di quelli contro Putin sono quelli contro Putin perché gli conviene stare contro ci sono quelli contro perché non condividi certe cose che ha differenza sono molto preciso io non credo che la nostra salvezza tra virgolette sarà Putin non sarà la Russia no beh questo dubbio è un senso di doverlo diciamo che si spera si spera in Putin ma non è che ci fidiamo ciecamente questo si allora a loro ballo è un discorso di supremazia all'interno dello stesso tipo di sistema si è chiaro non è un mondo non è un mondo diverso non è una concezione del mondo diversa beh diciamo che in Russia certe manifestazioni di proprio depravazione non sono ammessa al momento in cui devo dire c'è si parla di una pulizia morale almeno di non di non far decadere il costumico sia a livello animale anzi non animale anzi animali si comportano meglio meglio molto meglio degli umani esatto diciamo in Russia c'è c'è manifestazione proprio di degrado disumano che più di grado non si può non sono permesse al momento almeno questo è già un buon segno ma certamente non è che ci possiamo fidare io sono d'accordo con te perché poi bisogna aspettare infatti prego posso darti un dato sì sì come no parla parla certe politiche relative a gender mica gender eccetera eccetera sono state prima applicate nei paesi nordici nei paesi nordici certe cose sono già in vigore e da noi no quindi loro procedono gradualmente anche geograficamente in riferimento a quelle che sono le condizioni i valori dei popoli allora da noi queste cose stanno arrivando in ritardo ti do un dato la comunità europea ha stanziato 6 miliardi di euro per far accettare le teorie gender purtroppo 6 miliardi su 27 paesi sai quanto è stato destinato all'italia 6 miliardi su 27 paesi sai quanto è stato stanziato per l'italia 2 miliardi su 6 perché per l'italia c'è ancora una certa resistenza dovuta al fatto che è un paese cattolico ancora nei paesi c'è rimasta quella convinzione in alcune fasce di totalmente le regole di questo sistema probabilmente è un gioco all'interno dello stesso sistema ma questo mi pare evidente vedendo tante scelte di Putin tantissime ma non è non è non è il caso adesso di cambiare e di andare su questo argomento che ci porterebbe molto ne parliamo ancora adesso io purtroppo devo finire qui per un momento questa conversazione interessantissima di cui io ripeto mi auguro tantissimo che chi ci ascolta ci c'è qualcuno che può intervenire e dare il suo contributo a questa interessante discussione perché è una cosa che ci riguarda tutti in maniera totale a prescindere che sia cattolici o non cattolici ma comunque esseri umani che vogliono difendere la dignità e certi valori ecco direi che questo di questo bisogna veramente non solo discutere ma fare qualcosa prima che sia troppo tardi il fatto che la comunità europea riflettete ancora su questo dato le nostre ricerche sono sempre introdotte ma tutto ciò che è vizio e perdizione viene sempre più introdotto perché ripeto la collocità dei costumi rende un popolo dominabile facilmente dominabile e già questo dovrebbe tanto fare esatto ma ripeto volevo dirti il fatto che la comunità europea abbia stanziato 6 miliardi per far diventare gli esseri umani non degli animali perché gli animali sono migliori ripeto ancora una volta sono molto meglio delle porcherie proprio porcherie assolute che gli animali non si permetterebbero mai di essere di fare è un dato che deve far riflettere veramente per il semplice fatto che questi maialoni della comunità europea con tutto rispetto per i maiali veri che sono un'altra cosa ripeto hanno stato 6 miliardi quando per queste bestiate qua quando poteva invece stanziare 6 miliardi per aiutare le imprese le ditte per l'istruzione per migliorare le scuole cioè in Italia 2 miliardi che ristengono in Italia io le imprese dovremmo essere soprattutto per la ricerca e per la scuola visto che abbiamo anche le scuole addirittura i cadenti e invece no ti do un altro dato la gente deve far riflettere la gente ecco dove deve riflettere ti do un altro dato ti do un altro dato importante sono numeri allora tutta una richiesta una campagna per i matrimoni che io non ho niente contro gli omosessuali ci mancherebbe altro ma non si rendono conto che sono strumentalizzati allora si parla tanto di matrimonio gay tu sai che Zabbatero approvò questa legge nei due anni successivi all'approvazione della legge sai quanti omosessuali si sposarono quante coppie perché ce l'ha fatta vedere come un'emergenza come una grande richiesta come un segno di grande civiltà e che gli omosessuali non potrebbero loro di sposarsi mentre invece ci sono dei dati che sono terribili sulla promiscuità che porta l'omosessualità ma ti do questo dato dieci coppie si sposarono in due anni quindi il problema non è la richiesta di matrimonio e far passare questa cosa come qualcosa di tranquillo come dire e permettere permettere a testa alla gente che questa farla accettare una cosa contro noture che uno deve accettare questa richiesta di matrimonio te l'ho detto dopo circa due anni le coppie gay sposate erano dieci agli altri non gli eravano niente comunque ascolta te ne ho parlato questo faccio l'invito emergenze che non esistono ci dicono dei dati assolutamente sbagliati è un qualcosa col quale stanno manipolando gli stessi omosessuali questa notizia è importante anzi mi auguro che qualcuno ripeto possa intervenire in questo dibattito che meriterebbe veramente una diffusione capillare ma davvero alla grande io posso il massimo rispetto io rispetto questo rispettiamo per carità quello che c'entra però tutti i comunali di fronte alla legge senza distinzione di che cose di sesso di un uomo che bisogno c'è appunto 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 che stanno introducendo il reato di omofobia senza specificare in che cosa consiste il reato lasciando che sia il presunto la presunta vittima a sapere se si ritiene offesa oppure no non è più un discorso soggettivo ma diventa soggettivo vabbè ho parlato più troppo adesso mi fermo bene carissimo Otti ti ringrazio per il momento adesso purtroppo devo andare ma ti ringrazio veramente per le sue discussioni io mi auguro davvero che presto qualcuno intervenga anzi Elia ci sentiamo presto perché questo discorso andrebbe ampliato speriamo che il professor Borruso possa Borruso appunto possa più presto più presto risolvere problemi tecnici e intervenire anche lui con la sua autorevolezza in questa discussione si parliamo soprattutto Borruso io si si o non no ti rispariamo dirette con Borruso per ascoltare lui non per parlare io no 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 lo ascoltiamo no ma veramente anzi diamo parola lo ascoltiamo io anche io voglio ascoltarlo perché qualcosa ho visto di lui in rete ma mi piacerebbe sentirlo di più anzi poi se ti lo dirette è un grande piacere ti ringrazio per il momento e ci sentiamo presto grazie mille ciao 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 ciao